Allora siamo con una pellegrina, il tuo nome? Lucia Allora Lucia, tu torni a Lourdes da quanti anni? Da 28 anni E perché ogni anno tu decidi di lasciare tutto, prendere il tuo bagaglio e venire qui? Perché me la sento, la Madonna ci chiama E questo è il problema, che la Madonna ci chiama e veniamo E cosa ti senti quando sei qui? Sì, tranquilla, tranquillissima, no tranquilla, tranquillissima Quando sto qua, tranquilla Quindi trovi così la forza di ricominciare a vivere? Sì, sì, è vero E' un'occasione anche per ringraziare? Certo, ringraziare, pregare Siamo con Claudia Belforte, una giovane donna che ha deciso di intraprendere questo cammino Già eri militante nell'Unitalsi ma adesso presti il tuo lavoro attivamente, operativamente, il tuo servizio nel servizio civile Allora, tu da quanto tempo sei qui a Lourdes? Qui a Lourdes da più o meno circa tre settimane E ci resterai per? Per un anno Si spera di poter continuare questa esperienza fino alla fine Allora, innanzitutto, perché, come mai hai deciso di partecipare a questo progetto? Principalmente perché sono unitalsiana e da unitalsiana dico sempre che Lourdes è casa E quindi, perché Lourdes? Perché Lourdes è il centro e il fulcro di tutta l'Unitalsi e di ciò che gira intorno all'Unitalsi E quindi è un po' come stare a casa Ho già fatto un'esperienza all'estero Ma qui è totalmente diverso perché non mi sento di essere all'estero o magari è casa Allora, questa esperienza, sono tre settimane, già sta dando i suoi frutti, credo Allora, puoi raccontarci le emozioni che vivi? Cosa ti fa sentire di aver scelto la cosa giusta? È la cosa giusta nel momento in cui ti senti che sei nel posto giusto al momento giusto Cioè, nel senso, sei consapevole di star facendo quello che stai facendo Cioè, in questo caso, servizio E allora, spieghiamo a chi non lo sapesse In cosa consiste il tuo servizio qui? Principalmente nell'accoglienza dei... In questo caso, dobbiamo contestualizzare Ci troviamo nella stagione dei pellegrinaggi E quindi ogni 4-5 giorni viene una regione diversa qui a Lourdes E quindi noi ci troviamo ad accogliere i pellegrini In aeroporto, al treno, qui con gli autobus Che fanno tante tante ore di viaggio per essere qui E quindi siamo sempre pronti, ovviamente con un bel sorriso Ad accoglierli qui e poi a supportarli durante tutta la durata del pellegrinaggio E invece quando non sarà la stagione dei pellegrinaggi così numerosi, cosa farete? Saremo di supporto al santuario E quindi saremo nel santuario, un po' alla libreria, un po'... E' tutto da scoprire, quindi pian piano ci diranno tutte le cose che faremo Allora, il tuo incontro con Maria, con la grotta Posto giusto, momento giusto, scelta giusta Se possiamo saperlo, nel tuo cuore, guardando dentro Pensa al... quando sei arrivata e sei andata nella grotta Che è il posto di grazia per eccellenza Maria ti ha guardato, tu l'hai guardata Cosa vi siete dette? Tanta emozione Tanta emozione, tanti piantini, diciamo qui Tanti fiumi di lacrime Perché è proprio emozionante stare lì sotto Cioè, è una grazia, senti tanta gratitudine Perché è una grazia per poter proprio essere qui E quando tante persone non possono magari esserci E ti scrivono un messaggio Una... voglio dare una parola di conforto Perché dicono, vai lì e prega per me E io che posso essere qui e poterlo fare E in primis per me... Cioè, proprio tanta gratitudine Ti senti fortunata In conclusione, tu sei giovane Ci sono tanti giovani che decidono di intraprendere altre strade Sono attratti dalla movida, dal rumore Anche tu ti divertirai senz'altro Però decidi di impegnare il tuo tempo qui nel luogo del silenzio Ecco, cosa ti senti di dire loro per incentivarli A provare questa esperienza di gioia, di grazia? Che è un'esperienza che va fatta Anche solo provare Anche solo magari venire una volta sola In pellegrinaggio o non con il pellegrinaggio Venire a fare questa esperienza E di totale grazia, di totale pace Ti dà proprio una ricarica Perché comunque noi come un talziani Quando veniamo qui ci dà proprio una ricarica Per tornare a casa e ricominciare in maniera diversa Il nostro percorso e il nostro anno Allora cara, tu restarei qui per un anno Sei fortunata, lo dico anch'io E allora per me e per tutti gli amici che ci guardano da casa Che ci seguono Ti chiediamo una cortesia Potresti ricordarci nelle preghiere pregare per noi? Certo, assolutamente sì Per un anno intero Per un anno intero, sì Assolutamente sì Grazie Prego Grazie, grazie a voi Siamo con? L'amato addolorata Allora signora, prima che le dessi il microfono Stava dicendo tante belle cose Mi lo dica il microfono E niente, voglio dire che questo viaggio Questo pellegrinaggio che abbiamo fatto È la quarta volta che vengo E sono super condeggia Sono felice perché le giornate sono meravigliose Sto vedendo cose che prima non le avevo visto Sono bravi volontari che mi portano con la carrozzina Mi fanno vedere tante cose Sono felicissima Auguro a tutti quelli che mi stanno ascoltando Che anche loro faranno questo pellegrinaggio bellissimo Cosa vogliamo dire di questi volontari? Come sono? Sono bravi Sono sempre pronti Quando li chiami ti ascoltano Ti spostano a portare a vedere le cose che c'è da vedere Poi non ne parliamo della cucina Sono bravissimi tutti C'è una mia amica Maria che è il cuore mio Sono Federica Calla Voglio ringraziare tutti i ragazzi Che ho conosciuto quest'anno Ma sono 18 anni Che 18 pellegrinaggi che faccio all'Ud E sono emozionatissima Perché sono Sono felice Di essere in questa grande famiglia Grazie a tutti Grazie Ma cosa si è mangiato oggi? È stato buono? È buono? Sì è buono Ho mangiato i tortellini alla panna Sì 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 Era buono Io mi chiamo Giuseppe Dell'Unitalsi Sono 15 anni che sto nell'Unitalsi di Barletta E faccio un piccolo aiuto Cocco che è ammalato Bravo bravo Siamo con Angela Carnevale Referente giovani della Puglia Dell'Unitalsi Allora ti vediamo con i tuoi arnesi del lavoro Allora abbiamo il grembiule L'abbiamo fermata così come stava passando Come stava prestando il suo servizio Con il piatto ci scusiamo per il disturbo Per la nostra intrusione Oggi siamo venuti a visitare la mensa Nalsalus Dove appunto voi vi occupate con amore Dei fratelli ammalati bisognosi nel corpo E soprattutto appunto Date loro una parola di conforto Li aiutate Ecco Sì Per me questo è secondo me Uno dei servizi più belli Perché si ha possibilità di conoscere Tutte le Insomma tutte le sottosezioni Tutti gli amici che abbiamo con noi Nel momento più bello Che è la convivialità C'è allegria C'è confusione Ma è tutto bellissimo E quindi questo secondo me È uno dei servizi più belli Infatti spesso anche i ragazzi Che noi accompagniamo anche come prima volta Li portiamo proprio qui Per toccare con mano Che cosa vuol dire stare con gli ammalati Perché poi La bellezza di Lourdes Ti travolge La stanchezza non si sente La sentiamo quando torniamo a casa Ma qui no E quindi insomma Sono sempre delle emozioni fortissime Ecco Allora l'amore per Maria Per i fratelli Non vi fa sentire nessuna stanchezza Nessun dolore Diceva qualcuna di voi Che non solo date Ma ricevete tantissimo in cambio Sì è vero Riceviamo tantissimo E soprattutto quando Ci dicono un semplice grazie O quando ci dicono Adesso proprio Adesso proprio Una signora mi ha detto Sei arrivata al momento giusto Tu sei un angelo E lì Ti sciogli Dici ma che faccio Ma cosa ho fatto di buono Per meritarmi questo ringraziamento Ed è la cosa più bella Che possa esistere Forse è il sogno il più grande Essere un angelo di qualcuno Più di Di una luce del genere Non c'è credo Una grande ambizione Però quando Ti ringrazia una persona Senza che tu abbia fatto nulla Ti senti appagato Veramente di tutta la stanchezza E di tutti questi giorni E soprattutto Della stanchezza Che troviamo a casa Poi Si sente qui Tanta gioia Tanta confusione Sorelle che nel servizio Si muovono velocemente E allora a nome di tutti Veramente vi ringraziamo Per questo servizio Che prestate Ai nostri fratelli in difficoltà